L'estate avanza e l'estate è per Antonomasia la stagione degli spaghetti spaghetti con il mare abbiamo per voi raccolto tantissime ricette di tanti cuochi Aversa, Petrone, Carli, Salomone, cuochi dalla Calabria, dalla Sicilia e preceduti sia dalla storia di questa pasta che identifica l'Italia nel mondo sia dai consigli di Peppe Guida per cucinarli al meglio anche a casa nostra per restare in tema abbiamo le pizze di mare raccolte da Floriana Barone da nord a sud i panini e poi Francesca Faratro ci racconta di un personaggio che troverete camminando lungo il sentiero degli dei quindi tra Gerole e Positano un pastore dove chi percorre questo sentiero si può fermare consumare un po' di formaggio non mancano poi dolci con la frutta il weekend con il percorso di San Nilo le rubriche su vino, la birra, l'olio, il cocktail al balcone dove vi consigliamo le piante che allontanano le zanzare bimbi golosi, letti e visti e tante curiosità e appuntamenti il personaggio della settimana è il bravissimo cuoco siciliano Accursio Capraro che parla con Fabiola Polieri dei suoi progetti delle sue suggestioni insomma tutto il sud in 64 pagine da conservare lo trovate in edicola oppure scaricandolo app con la quale potete richiedere i numeri arretrati oppure fare l'abbonamento online ovunque voi siate il sud è con voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti